Come li fai i fagioli? Prendo la cipolla, faccio a pezzettivo la cipolla, poi la faccio soffriggere con l'olio, poi dopo metto la conserva oppure i pomodori secondo quello che dovrò e poi faccio saporire i bocchettosi poi ci allungo l'acqua, appoga, ci faccio fare come in suppetto e la faccio così in bocchetto, poi ci allungo l'acqua quando sono cotti i fagioli e ci faccio i fagioli che non veste cotti dentro il suco, hai capito questo? e poi allungo l'acqua per la minestra, faccio i fagioli, quando vuole ci metto la massa, una gradazione che posso fare con le scotelle medona regolata, che non le faccio ne acuosi e ne troppo secchi ok, saluta i tuoi fans, però se ne fanno le sate se conoscono a crudo, capito? saluta, saluta, saluta i tuoi fans, io ti saluti, io ti saluta, saluta a tutti, saluta a tutti e che non mi fai fin l'altra volta come l'altra volta, no? ha capito? ha capito, ha capito